Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 2 dicembre 2019 e sul canale 17 puntuale alle 7 del mattino c'è l'occhiata ai giornali che diamo per farvi uscire informati di casa in questa nuova settimana che sta per cominciare in questo nuovo mese che ci porterà a festeggiare il Natale e l'ultimo giorno dell'anno, un mese dunque che speriamo per tutti sia un mese di serenità, di gioia perché no, ce l'auguriamo già preventivamente ma cominciamo dal Santo del Giorno, vediamolo subito oggi la Chiesa Cattolica che ricorda il Beato Giovanni e poi anche altri Santi come per esempio San Cromazio il sole sorgerà alle 7.21 e tramonterà alle 16.33 oggi abbiamo una giornata di tempo perturbato soprattutto sulle Marche comincerà la mattinata senza grandi piogge insomma poi il tempo peggiorerà invece nel corso del pomeriggio come prevede anche la protezione civile delle Marche che vedete in questa immagine in questa immagine con la grafica realizzata e che indica precipitazioni sparse inizialmente nel settore a nord della regione quindi la provincia di Pesaro per poi estendersi al resto delle Marche nel pomeriggio i fenomeni in particolare nel settore centro-settentrionale saranno a carattere di rovescio o di temporale anche di forte intensità per quanto riguarda la giornata di domani martedì 3 dicembre il cielo inizialmente sarà nuvoloso nella prima parte della giornata di domani soprattutto nelle zone interne, nelle zone appenniniche poi questi fenomeni si esauriranno nel corso del pomeriggio condizioni di miglioramento nei prossimi giorni successivi nei prossimi giorni Allora Corriere e Carlino sono i due giornali che come sempre prendiamo in esame tutte le mattine cominciamo dal Carlino di Pesaro in apertura i certificati il comune di Pesaro dal 2020 lascia solo 4 uffici decentrati aperti verranno chiusi invece tutti gli altri dunque si cambia ma non mancano le proteste come a Borgo Santa Maria dove dicono i residenti ci avete ingannati a centro pagina la foto di giocatori che guardano il parquet guardano a terra sconsolati il titolo disastro VL passa anche Cremona decimo K.O. salvezza ormai lontanissima e poi la storia di una anziana bloccata soprattutto nei movimenti con la sua carrozzina la sedia a rotelle a Baia Flaminia bloccata da un dislivello davanti a casa la rabbia dei parenti e poi lo sport l'altro il resto dello sport come il calcio Alma crisi senza fine passa anche la Fermana quindi il Fano che perde contro la Fermana in casa e dunque probabilmente esonererà o è già stato esonerato l'allenatore Fontana mentre calcio Serie C sempre la Vispesero blackout il Modena ribalta tutto la pagina di Ancona Marilena temeva di essere uccisa il delitto di Capoverde la donna aveva paura dell'Anconetano Coppola aveva messo una catena alla porta centro pagina invece la vincita di 692 mila euro a Cerreto la fortuna batte la crisi macerata incubo povertà per tante famiglie Bettucci della Caritas sempre più le richieste di aiuto reddito di cittadinanza oltre 2500 beneficiari una tragedia a Tolentino si sente male sul treno e muore a centro pagina invece chiesa depredata a Mogliano rubati a Redi Sacri ed il busto di San Grisogono mentre i sindaci bocciano il decreto sisma Ceriscioli scrive al Premier Giuseppe Conte questo invece è il Corriere Adriatico l'ira di Ceriscioli lettera a Conte decreto sisma così non serve appello al Premier cambia il testo votato alla Camera il 10 dicembre venga la festa delle Marche Sport del lunedì WL adesso sono 10 10 come le sconfitte eloquente lo striscione esposto dai tifosi della squadra di basket ieri alla Vitri Frigo Arena lo striscione recita così Pesaro merita rispetto anche Cremone spugna la Vitri Frigo Arena 63 a 74 mentre Trieste e Pistoia si allontanano Vis e Fano K.O. Fontana ai saluti c'è Alessandrini il tecnico del Fano Fontana dunque esonerato in pole per la successione c'è Marco Alessandrini Fuoco e LED in piazza un Natale abbagliante piazza 20 settembre a Fano limita per l'accensione della beta e delle luminari un ricco show tra musicisti cantanti ballerine e acrobati la voce di Clarissa Vichi ha intonato Salid Night in un crescendo di emozioni sul palco il sindaco Sere e l'assessore Lucarelli hanno fatto gli auguri alla città ma a Piobbico un intero paese piange la scomparsa di Paola Blasi 51 anni deceduta ieri mattina all'ospedale di Muraglia dopo una breve malattia Paola Blasi era molto impegnata nel sociale è stata consigliera comunale di Piobbico per 5 anni nell'amministrazione guidata dal sindaco Mocchi ben voluta amata da tutti lascia 3 figli dell'età di 23 di 13 e 10 anni il funerale si svolgerà domani pomeriggio alle 14 e 30 nella chiesa di Santo Stefano dove verrà ufficiata la messa al termine della quale seguirà la tomulazione nel cimitero cittadino spettacolo di canti luci e acrobazie invece sempre nella pagina di Fano ma del Corriere si accende l'albero e Fano Risplende il sindaco esalta la valenza turistica degli eventi l'assessore Lucarelli sottolinea i temi carnevale passaggi festival e i bambini grande folla in piazza 20 settembre sabato buon riscontro anche di vendite per i negozi mentre a Ponte Sasso nel nome di Roberto e Giancarlo Santinelli Roberto il fondatore che nel 1979 ha messo in moto tante iniziative per fondare appunto l'unione sportiva Ponte Sasso c'è stata questa festa questo quarantennale ricordando le nuove strutture e le relazioni che sono nate dal calcio e fiorita la vita sociale appunto del quartiere abbiamo parlato di Fano che ha aperto con uno show le sue feste il suo programma di Natale anche Senigallia anche Senigallia non scherza guardate che bella fotografia quando l'hanno accesa ieri questa luminaria è piaciuta a tutti e ha messo a tacere praticamente tutte le polemiche dei giorni passati in piazza Lambertina è stata inaugurata appunto questa 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 nuova area del rione Porto ebbene il cielo stellato illumina la bella piazza Garibaldi funziona splendidamente l'allestimento delle luminari davvero suggestive scrive il giornale inaugurata anche la nuova area appunto del rione Porto e in molti hanno chiesto guardate sempre questa foto a destra questo cielo stellato ebbene in molti hanno chiesto hanno proposto di lasciare il cielo luminoso sulla piazza tutto l'anno un allestimento che ha messo a tacere come dicevamo anche le critiche ma speriamo invece di no che rimanga solo per Natale perché altrimenti è finita la sorpresa poi non ci si stupisce più di nulla moglie morta per infarto andiamo a Fenile qui c'è la cronaca una storia molto triste non è la prima forse probabilmente non sarà nemmeno l'ultima quando due persone stanno insieme per una vita intera poi a un certo punto all'improvviso uno dei due viene a mancare in questo caso è la donna che si chiama Maria la coppia si chiama Giuseppe Maria composta da Giuseppe Maria dicevo quando a un certo punto uno dei due viene a mancare come in questo caso quando Maria è morta una settimana fa per un infarto e l'uomo l'uomo 79enne rimasto praticamente da solo dopo una vita passata insieme a lei cosa decide di fare decide di seguirla di seguirla in modo tragico però e come non si dovrebbe fare purtroppo il 79enne è stato trovato in casa a Fenile un quartiere di Fano per una emorragia alle arterie in seguito al taglio delle arterie quindi si è tagliato le vene ed è stato trovato morto l'allarme è stato dato dai vicini di casa di Giuseppe che non vedendo la messa la messa che si usa a celebrare dopo una settimana dalla morte di una persona quindi in questo caso non era in chiesa per la messa della moglie e quindi hanno dato l'allarme è arrivata la polizia poi hanno fatto la scoperta tant'è che insomma è talmente chiaro perché pare che abbia scritto anche un messaggio adesso mi qui c'è scritto adesso mi chiudo in casa senza rispondere a nessuno se mia moglie mi chiama la raggiungo ma nel resto del carlino come vedono tra poco il messaggio diceva più o meno la vita senza di lei non ha più non ha più senso quindi per dire come dire insomma un amore forte un amore forte un amore grande ma soprattutto la paura probabilmente anche di rimanere solo in questi anni questi un futuro senza senza speranza e questa è la storia che viene raccontata questo fatto di cronaca che viene raccontato questa mattina sul Corriere Adriatico ma anche sul resto del carlino a pagina 2 del quotidiano bolognese certificati nei quartieri il comune di Pesaro cambia tutto parliamo dell'anagrafe solo 5 uffici remerranno aperti a Muraglia 5 torri Villa Fastigi Vismara oltre a Pesaro ma per tutta la settimana il servizio così è ottimizzato in un anno Candelara ha fatto 200 certificati con questi numeri è giusto razionalizzare tutta la rete dicono dal comune questa invece è la storia di Vinicio Cangini mentre trasporta fuori la suocera superando questo dislivello siamo nel quartiere di Baia Flaminia un dislivello che insomma crea crea problemi crea disagi circa 50 cm un piccolo fosso che rende la vita molto complicata a una 94enne residente con la famiglia Baia Flaminia in via Baldi i suoi parenti hanno chiesto da un anno al comune di Pesaro di porre rimedio pareggiando il livello della loro casa con quello della strada ma ancora nessuno ha risolto il problema e sotto dicevamo di questa tragedia a Fenile nel Fanese la vita non ha più senso morta la moglie l'anziano si uccide il marito si uccide i vicini avevano segnalato di non vederlo più in giro i poliziotti lo hanno trovato in casa senza vita nel biglietto la vita non ha più senso più senso senza di lei questo è il messaggio più o meno questa è la frase che i poliziotti hanno trovato scritta su questo biglietto lasciato da quest'ottantenne che nel Fanese dopo aver perso la moglie pochi giorni prima con cui aveva condiviso grandissima parte della sua vita non ha retto al dolore e si è suicidato il Carlino scrive che è morta la donna per un ictus passiamo alla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico anche qui la cronaca con alcune auto graffiate e gomme addirittura bucate in Piazza Morandi dove torna a questo punto l'incubo dei vandali la denuncia di una residente serve in questa zona più illuminazione il nodo dei parcheggi abusivi e anche degli spacciatori di droga il sindaco Mangialardi rassicura non risulta che sia aumentato il numero delle denunce e Piazza Lambertina fa risplendere il porto di Senigallia con la riqualificazione è stato completato anche il restyling del Rione rischio sismico ancora a Pesaro pochi controlli necessari a più consapevolezza Fazzi che è il presidente dell'ordine degli ingegneri dice dal dopoguerra la città è raddoppiata senza seguire però regole chiuso il mese dedicato alla prevenzione solo 15 richieste per le verifiche sulle case da parte degli esperti e nella pagina 3 del Corriere Adriatico sulla nuova scuola di via La Marmora scattano i lavori di demolizione tra gli edifici che dovranno essere abbattuti anche la casa degli scout e poi sull'ex carcere minorile per il recupero dell'ex carcere minorile si chiudono le offerte oggi è l'ultimo giorno domani è fissata l'asta migranti le regole sono cambiate e aumenta la truppa degli invisibili il gruppo avvocati di strada chiede un confronto urgente con la questura di Pesaro la prefettura ed il comune i proprietari sono fuori casa i ladri svaliggiano l'abitazione che è finita a soquadro a Borgo Santa Maria mentre è stato sventato anche un altro un altro furto mentre sulla pagina 5 del Corriera Borgo Santa Maria chiuderà il servizio anagrafe protestano i residenti noi non siamo stati informati dicono l'ufficio comunale sarà soppresso entro la fine del mese mobilitazione con tanto di raccolta di firme i contestatori invece non hanno capito le sardine che sabato hanno manifestato a Pesaro la replica degli organizzatori del raduno in piazza Lazzarini il centro sociale pesarese dice noi non centriamo sulle contestazioni e sui disordini che a un certo punto sono sono venuti fuori durante la manifestazione delle sardine dice siamo scesi in piazza per chiedere una politica di qualità qualcuno ma era un gruppetto di pochissime persone che si contavano sulle dita della mano non ha capito il senso di questa iniziativa così dicono così parlano all'indomani della manifestazione delle sardine in piazza Lazzarini gli organizzatori che respingono al mittente le critiche di essere stati di essersi schierati politicamente non siamo andati a manifestare dicono loro per difendere questo o quel partito la piazza deve continuare tanto che già pensiamo ai prossimi eventi invitiamo tutti a Roma il 14 di dicembre e poi la pagina di Vallefoglia la pagina di Vallefoglia racconta la voglia il desiderio probabilmente l'intenzione così accadrà nei prossimi nei prossimi mesi di Stefano che dà il nome anche a questo al suo locale che si trova a Pesaro in via degli Abeti di spostare il suo grande magazzino il suo grande market dove si trova veramente di tutto da via degli Abeti appunto quindi a Pesaro a Vallefoglia lascia dunque il quartiere della Torraccia il popolare store di gadget bricolage oggettistica articoli vari casalinghi chi più ne ha più ne mette si trova davvero di tutto per andare e sbarcare a Vallefoglia l'addio però alla sede di via degli Abeti non è indolore al momento il market è aperto per il Natale ma il destino è tracciato perché dopo la Befana Stefano chiuderà lo farà anche con un po' di polemica perché ha postato su Facebook alcuni video alcuni sfoghi dove dice che via degli Abeti è praticamente ormai lasciata all'abbandono pare che secondo lui anche è in viaggi vorrebbe spostarsi da lì insomma ormai non c'è più niente poi è vero che la Renco si è appena trasferita e in certo qual modo ha rivitalizzato un pochettino l'area ma giusto marginalmente perché insomma non è che ha molto a che fare con via degli Abeti quindi è una struttura che sta più verso l'autostrada insomma via degli Abeti non è più quello di una volta tantissimi tra l'altro sono i capannoni sfitti quindi insomma è una zona ormai degradata dove non c'è più granché una rete sociale invece per chi soffre di Alzheimer grazie a Nonno Mino si estende tra Valefoglia Pesaro e Urbino questo è un altro articolo che troverete sul Corriere di questa mattina Urbino un grande sforzo per la cartiera ripagato da emozioni e consenso l'imprenditore Pagliardini soddisfatto dell'affluenza al festival intitolato Memorie sull'acqua Giovanni Pagliardini che è titolare dell'azienda Megawatt qui lo vedete appunto in questa fotografia in futuro ci sarà anche un programma di eventi culturali di qualità e di promozione delle eccellenze e poi da Fermignano invece Fermignano nuova contraria non alla cittadinanza bensì alla commissione dice censura vi spiego la nostra stensione su Liliana Segre servizi ridotti nei municipi siamo a terre roveresche non era questa la promessa l'opposizione di terre roveresche critica gli orari degli sportelli comunali poi sotto assemblea Fileni siamo a San Lorenzo in campo il sindaco invita azienda e comitato giovedì alle 21 il confronto per fornire i chiarimenti sul progetto industriale poi c'è sempre da Urbino e qui torniamo sul resto del Carlino una mostra che celebra l'unicità di un'opera un'opera straordinaria in stucco che è un presepe un presepe in stucco realizzato nel 1550 da Federico Brandani all'interno dell'oratorio di San Giuseppe e ieri primo di dicembre c'è stata l'inaugurazione di questa mostra intitolata il presepe del Brandani ambasciatore di Urbino e questa questa mostra celebra l'unicità di quest'opera che ha fatto girare il nome di Urbino in tutta Italia e poi sotto il coro e siamo a Urbania e la banda cittadina regalano il concerto di Natale appuntamento al 21 di dicembre mentre al teatro Bramante arriva Antonio Rezza e ad Acqualagni invece l'arma dei Carabinieri in festa per la Virgo Fidelis a Urbino sempre Urbino invece quasi ultimati lavori all'ospedale tante sono le novità ma ancora c'è qualcosa che non funziona il Papa a proposito di presepe il Papa difende il presepe fatalo ovunque Bergoglio a Greccio Greccio dove San Francesco realizzò la prima natività simbolo cristiano per un nuovo per un mondo più umano e fraterno e Papa Francesco dice è importante allestirlo in casa ma anche nelle scuole e nelle piazze e adesso il calcio con lo sport prima di chiudere la rassegna stampa Stop Fano Top Fermana questo è il titolo sul Corriere Adriatico il gol di Cognini all'inizio del secondo tempo decide la delicata sfida salvezza del Mancini Granata Costretti all'ottava sconfitta consecutiva adesso Fontana l'allenatore rischia davvero l'esonero Fano che perde in casa 1-0 mentre si evidenzia anche la mancanza del tifo una parte di esso un derby in tono minore sugli spalti Panthers non entrano allo stadio per protesta un derby in tono minore sugli spalti con l'andamento deficitario di entrambe le contendenti a trattenere diverse centinaia di spettatori lontano dal Mancini restano fuori per protesta i Panthers Granata che contestano l'immobilismo societario a dispetto della lunga serie di sconfitte nel vuoto del centro della curva spicca la loro rivendicazione un meritiamo di più messo nero su bianco sullo striscione attaccato sulla ringhiera prima del fischio d'inizio Fontana ormai ha i saluti il tecnico del Fano non si è presentato in sala stampa e tutto lascia presagire ad un suo esonero May dice ok 8 KO consecutivi sono tanti ci prendiamo qualche ora per riflettere e poi decideremo il da farsi Gaetano Fontana 40 anni tecnico dell'Arma Juventus Fano lo vedete in questa fotografia a questo punto la scelta potrebbe cadere su un allenatore navigato come Alessandrini che i fanesi conoscono molto bene Lampovis poi si fa buio un gol di Gianola mette alle corde il Modena ma la ripresa è un monologo degli emigliani dopo il riposo in 8 minuti i biancorossi sono andati sotto nel finale vani tentativi di rimontate Modena Modena dunque che vince in casa 3 a 1 contro la Vis Pesaro la seconda pagina del Corriere è sempre per la Vis un calo inspiegabile il tecnico Pavan allarga le braccia e dice dopo il vantaggio ci siamo persi per strada e se molli in questo modo poi difficilmente riesce a farcela abbiamo comunque perso un'occasione 7.22 per chi ci segue in diretta grazie per essere stati con noi vi saluto vi auguro una buona giornata vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia vi ricordo che c'è oggi è una giornata di dirette piene di dirette perché alle 18.30 circa abbiamo anche l'appuntamento seguitissimo da tanti bambini ovvero Babbo Natale che nel nostro studio potrà parlare con i bambini al telefono un appuntamento seguitissimo poi alle 20.30 il telegiornale Occhio alla Notizia poi di nuovo in diretta con Primo Cittadino e Riccardo Sora adesso ci dirà il nostro regista che è l'ospite di questa sera vediamo se lo prendo in castagno oppure no sempre pronto e attento grazie e buona giornata arrivederci a Grazie a tutti.